L'impero russo degli ultimi anni del XIX secolo è una nazione in cui vige un sistema autocratico e assolutistico incentrato sulla figura dello zar. La popolazione è di circa 45 milioni di abitanti, l'80% della quale è costituita da servi della gleba o da contadini che lavorano direttamente per lo zar. Nel 1855 sale al trono lo zar Alessandro II che nel 1861 abolisce la servitù della gleba ed ha la possibilità ai contadini di affrancarsi acquistando le terre che lavorano. Vent'anni dopo però il 51% di questi contadini non avrà ancora finito di pagare per la propria libertà. Sempre nel 1861 Alessandro II attua una serie di riforme che migliorano l'istruzione, il sistema giudiziario, quello fiscale e attenuano la censura. Nonostante ciò l'impero russo rimane anche in termini di industrializzazione il paese meno evoluto d'Europa, permeato da grandi contraddizioni e disparità sociali. Negli anni 70 dell'Ottocento nasce in Russia il movimento populista, un movimento politico e culturale che si sviluppa principalmente nelle città ed è formato da intellettuali e studenti consapevoli dei gravi problemi economici, sociali e politici della società russa. Esso si propone l'emancipazione delle masse contadine, la fine dell'autocrazia zarista anche per mezzo della violenza e la creazione di una società socialista. Il gruppo populista chiamato Volontà del Popolo organizza l'assassinio di Alessandro II che viene messo in atto il 1 marzo del 1881. I suoi successori, Alessandro III e Nicola II, tentano di rafforzare il potere autocratico sostenendo una politica di repressione politica e di controriforme. Nella speranza di evitare che la Russia cada nella trappola e nelle contraddizioni del capitalismo che in quegli anni dilaniano l'Occidente, i populisti lavorano affinché possa scoppiare una rivoluzione contadina che porti all'affermarsi di un modello di società basato sulla obsina, cioè sulla coltivazione comune delle terre da parte dei contadini in contrasto con la proprietà individuale. Alcuni populisti in esilio si avvicinano invece al marxismo, creando nel 1883 a Lausanna la prima organizzazione marxista russa chiamata Emancipazione del Lavoro. Negli anni successivi nascono molti altri circoli marxisti, il più rappresentativo dei quali nasce a Minsk nel 1898 con il nome di Partito Operaio Socialdemocratico Russo. Gli aderenti a questo partito diffidano delle capacità rivoluzionari dei contadini e di conseguenza, al contrario dei populisti e in linea con quanto teorizzato da Marx, ambiscono a una rivoluzione su scala planetaria che sarebbe nata dalla contrapposizione, caratteristica del sistema capitalistico, tra borghesia e classe operaia. Auspicano quindi uno sviluppo industriale del paese che avrebbe favorito la formazione di una vasta classe proletaria la cui forza crescente avrebbe consentito il successo della rivoluzione. All'inizio del XX secolo la Russia azzarista vive un momento particolarmente difficile. Il peggioramento della situazione nelle campagne sfocia in ripetute sommosse cui seguono le proteste di ferrovieri e operai. Inoltre riacquista a vigore il terrorismo rivoluzionario con l'assassinio nel 1901 del ministro dell'istruzione, nel 1902 di quello degli interni e nel 1904 del suo successore. Sempre nel 1904 scoppia la guerra con il Giappone per il controllo della Manciuria e della Corea che in caso di successo avrebbe garantito alla Russia l'accesso a un porto nell'oceano pacifico libero dai ghiacci da utilizzare sia come base militare sia come porto marittimo. La guerra si conclude però con una sconfitta della Russia che è costretta a negoziare frettolosamente l'accessazione delle ostilità per potersi concentrare sulle questioni interne. I russi sono così costretti a ritirarsi dalla Manciuria a fare ulteriori concessioni territoriali al Giappone e riconoscere la Corea come territorio di influenza giapponese. Questo smacco in campo internazionale che rende inutile il sacrificio dei soldati e della popolazione durante la guerra aumenta ulteriormente il malcontento verso il governo. Domenica 22 gennaio 1905 il 9 gennaio secondo il calendario Giuliano in uso in Russia decine di migliaia di persone si radunano pacificamente davanti al palazzo d'inverno portando una petizione con oltre 130.000 firme con cui chiedono allo zar la riduzione dell'orario di lavoro a otto ore il salario minimo giornaliero e la convocazione di un'assemblea costituente. Per tutta risposta le truppe imperiali sparano sulla folla provocando oltre 2.000 feriti e centinaia di morti con questo evento ricordato come domenica di sangue il popolo russo perde definitivamente fiducia nello zar. Si moltiplicano così nel paese le manifestazioni di protesta nelle campagne dilagano le rivolte contro i proprietari terrieri mentre nelle maggiori città industriali si formano i primi soviet organizzazioni politiche di lavoratori che mirano alla conquista del potere sia locale sia centrale. I socialdemocratici pur divisi in bolshevichi e menshevichi tentano di assumere la leadership di questi moti popolari. Ecco abbiamo parlato di bolshevichi e menshevichi quindi ricordiamo che il bolshevismo è una corrente del partito operaio socialdemocratico russo fondata da Vladimir Lenin e Aleksandr Bogdanov in seguito alla spaccatura del partito in due fazioni durante il secondo congresso di Londra il 17 novembre del 1903. I bolshevichi termine che in russo significa maggioritario sono appunto la corrente maggioritaria e hanno un programma rivoluzionario mentre i menshevichi che in russo significa minoritario sono invece più propensi ad attuare il socialismo attraverso un processo di più graduale basato sull'attuazione di riforme. In queste condizioni di estrema incertezza nel 1914 l'impero russo scende in guerra contro gli imperi centrali a fianco degli stati dell'intesa. Ovviamente parliamo della prima guerra mondiale siamo nel 1914. Dopo alcuni iniziali successi la retratezza del sistema economico della Russia rende sempre più difficoltoso affrontare i costi e i disagi che la guerra comporta. Nel 1915 l'esercito russo è costretto alla cosiddetta grande ritirata perdendo il controllo della Galizia e della Polonia. Il malumore cresce quindi sia tra le truppe per via delle gravi perdite subite sia all'interno del paese a causa delle crescenti difficoltà economiche che la popolazione è costretta a sopportare. Nelle città mancano infatti viveri e combustibile e nelle campagne a causa del sempre maggior numero di reclutati per la guerra vengono a mancare risorse essenziali per lavorare la terra. Il 22 gennaio del 1917 anniversario della Domenica di Sangue la polizia spara nuovamente sulla folla a San Pietroburgo uccidendo diversi manifestanti. Gli operai reagiscono organizzando scioperi nelle principali fabbriche della capitale Pietrogrado e il 23 febbraio viene proclamato uno sciopero generale. La Duma cioè la Camera Bassa ed elettiva del Parlamento Russo le cui sedute erano state sospese dallo Tsar forma un comitato al fine di trovare nuove alternative di governo. Ma lo Tsar Nicola II nega qualsiasi concessione ai rivoltosi e impone la repressione di ogni manifestazione. La situazione precipita velocemente. Gran parte dell'esercito a difesa di Pietrogrado si unisce infatti agli scioperanti e distribuisce loro delle armi permettendogli di occupare i principali centri di comando. Nello stesso momento anche a Mosca scoppia la rivolta e la città cade nelle mani degli insorti. Nonostante il tentativo di Nicola II di salvare il salvabile concedendo ampie riforme e proponendo la formazione di un'assemblea costituente la situazione è sostanzialmente compromessa per l'autocrazia zarista. Il 2 marzo del 1917 il comitato della Duma e i Soviet si accordano per la deposizione dello Tsar e l'istituzione di un governo provvisorio per avviare una fase costituente. Il nuovo governo è fondato da rappresentanti dei Menshevichi del partito socialista rivoluzionario del partito democratico costituzionale detto anche partito dei cadetti. La notte successiva Nicola II abdica in favore del fratello il granduca Mikhail il quale rinuncia a salire al trono firmando un manifesto di rinuncia preparato dal governo rivoluzionario provvisorio. L'intera famiglia imperiale viene poi arrestata ponendo fine al regno della dinastia dei Romanov. i bolcevichi non hanno un ruolo da protagonisti nella rivoluzione di febbraio in quanto il partito nonostante i suoi cinque rappresentanti alla duva è di fatto clandestino e i suoi dirigenti più influenti sono o in volontario esilio all'estero o deportati in Siberia. Anche nei soviet che dopo le repressioni del 1905 si stavano ricostituendo in tutta la Russia la maggioranza è quasi sempre costituita da menshevichi e socialisti rivoluzionari. Lenin leader dei bolcevichi che si trova ad alcuni anni in esilio in Svizzera venuto a conoscenza di quanto sta accadendo in patria decide di ritornarvi. Sia la Francia sia il Regno Unito rifiutano però di concedergli il visto di transito per raggiungere la Svezia e di lì attraverso la Finlandia la Russia. Questo perché giustamente sospettano che uno degli obiettivi dei bolcevichi sia quello di aprire immediatamente trattative di pace con la Germania per potersi dedicare al completamento della rivoluzione mentre le potenze dell'intesa vogliono che la Russia continui a impegnare l'esercito tedesco sul fronte orientale. Il visto che permetterà a Lenin di tornare in patria verrà infine concesso dalla Germania ed esattamente per gli stessi motivi. Lenin seppur conscio del fatto che tornare in patria attraverso la Germania lo avrebbe esposto all'accusa di essere un agente del nemico tedesco decide comunque di tornare insieme ad altri 30 esuli russi. Curiosità il viaggio di Lenin verso la Russia avviene in treno all'interno del cosiddetto vagone piombato ossia su una carrozza ferroviaria che ha tre porte su quattro sigillate e con il divieto di avere qualsiasi contatto con l'esterno. Il 3 aprile del 1917 Lenin giunge alla stazione di Pietrogrado accolto da una folla oceanica. Già il giorno seguente si tiene la conferenza del partito bolshevico in cui Lenin espone quelle che sarebbero passate alla storia come le tesi di aprile. Una serie di direttive politiche riassunte in dieci punti che vengono pubblicate il giorno successivo sulla Pravda con il titolo Sui compiti del proletariato nella rivoluzione attuale. Le riassumiamo velocemente. La prima denuncia della guerra in corso come guerra imperialistica di brigantaggio stiamo parlando della prima guerra mondiale iniziata dal governo zarista e proseguita dal governo provvisorio il quale è evidentemente ancora espressione delle forze borghesi e capitaliste del paese. Compito dei bolshevichi è quindi quello di spiegare al popolo lo stretto legame tra gli interessi del capitale e la guerra propaganda da estendere all'esercito fino a invitare i soldati alla fraternizzazione con il cosiddetto nemico. il secondo punto preso atto che la Russia sta vivendo una prima fase della rivoluzione in cui la borghesia ha preso il potere a causa dell'insufficiente grado di coscienza e di organizzazione del proletariato occorre passare alla seconda fase quella che darà il potere agli operai e ai contadini. Il terzo punto il governo provvisorio non deve essere appoggiato in alcun modo dai bolshevichi in quanto esso è intenzionato a portare avanti fino in fondo la guerra imperialistica voluta dalla borghesia Quarto punto sull'esempio della comune di Parigi l'esercito permanente sarà sostituito dall'armamento di tutto il popolo e i funzionari statali saranno nominati per elezione il loro stipendio dovrà essere pari a quello medio di un operaio Sesto punto tutte le grandi proprietà fondiarie dovranno essere nazionalizzate e messe a disposizione dei soviet locali dei salariati agricoli e dei contadini Settimo punto tutte le banche del paese dovranno essere fuse in un'unica banca nazionale posta sotto il controllo dei soviet e degli operai Ottavo punto questi provvedimenti non daranno ancora vita al socialismo ma per il momento permetteranno il controllo della produzione e della ripartizione dei prodotti da parte dei soviet Nono punto i leader socialdemocratici hanno tradito il socialismo e occorre quindi distinguersi da loro Il partito deve convocare immediatamente un congresso che approvi le modifiche al suo programma secondo i punti appena citati e il cambiamento del suo nome da socialdemocratico a comunista Decimo e ultimo punto per lo stesso motivo occorre creare una nuova internazionale veramente rivoluzionaria Ecco ricordiamo che l'Associazione Internazionale dei Lavoratori conosciuta anche come Prima Internazionale è un organismo che nasce nel 1864 a Londra con lo scopo di creare un legame internazionale tra i diversi gruppi politici di sinistra quindi socialisti anarcho-comunisti repubblicani mazziniani marxisti e tra le varie organizzazioni dei lavoratori in particolare operaie Il conflitto con gli anarchici l'inadeguata organizzazione interna il fallimento dell'esperienza della comune di Parigi e la crisi economica del 73 portano al suo scioglimento nel 1876 Nel 1889 viene creata a Parigi la seconda internazionale a cui partecipano socialisti riformisti e rivoluzionari marxisti e anarchici e poi questi ultimi fuoriescono definitivamente nel 1896 La seconda internazionale rimane in vita fino al 1916 Con il passare dei mesi si comprende come il governo provvisorio inclusi i rappresentanti di operai e contadini intenda continuare il proprio impegno nella prima guerra mondiale tenendo quindi fede agli accordi con le potenze dell'intesa e i suoi membri non abbiano alcuna intenzione di rinunciare alle loro proprietà personali La situazione nelle città nel frattempo precipita velocemente i viveri iniziano a scarseggiare e i prezzi dei pochi beni disponibili crescono vertiginosamente provocando una forte inflazione Nelle campagne le occupazioni delle terre aumentano e nel mese di giugno del 1917 si registrano 875 spropri illegali Inoltre tra i lavoratori cresce la convinzione che malgrado l'economia sia allo sfascio i profitti delle imprese impegnate nella produzione bellica crescano in modo vertiginoso Tutti questi fattori fanno sì che sempre più lavoratori e soldati vengano attirati dalla propaganda dei bolshevichi che come sappiamo puntano ad abbattere il governo provvisorio esistente e a dare tutto il potere ai soviet Il governo nel tentativo di aumentare il suo controllo sulla capitale Pietrogrado decide di spostare gradualmente al fronte le truppe poste a difesa della città che avevano partecipato alla rivoluzione di febbraio con l'intento di sostituirle con uomini giudicati più fedeli Resisi conto di questa mossa i soldati di stanza a Pietrogrado insorgono contro il governo e il 3 luglio del 1917 dopo aver ottenuto l'appoggio degli operai organizzano una manifestazione di protesta al culmine della quale si recano presso la sede del partito bolshevico chiedendo l'abbattimento del governo provvisorio i bolshevichi pur consapevoli che i tempi non siano ancora maturi non osano opporsi a questa richiesta e tentano un colpo di mano che viene però subito soffocato soprattutto a causa del rifiuto da parte del soviet di Pietrogrado di scavalcare il governo provvisorio accentrando su di sé tutti i poteri dello stato conseguenza di questa azione è che il partito bolshevico viene sostanzialmente dichiarato fuori legge e i suoi dirigenti arrestati o costretti alla fuga Lenin trova rifugio a Helsinki in Finlandia accusato dal governo di aver ricevuto denaro dall'imperatore tedesco per finanziare un colpo di stato bolshevico in Russia e conseguentemente ritirare le truppe russe dalla guerra il fallimento di questo tentativo rivoluzionario convince il governo e le forze che lo sorreggono che ormai il movimento rivoluzionario sia esaurito il principe Lvov presidente del consiglio chiede al governo di essere più duro nei confronti dei contadini che occupano illegalmente le terre dei latifondisti e pretende le immediate dimissioni del ministro dell'agricoltura il sociale rivoluzionario Cernov accusandolo di incoraggiare anziché reprimere le occupazioni gli altri ministri appartenenti alla sinistra rifiutano di forzare Cernov alle dimissioni cosa che porta il governo allo scioglimento l'incarico di primo ministro con ampi poteri su varie giurisdizioni viene così affidato al socialista Aleksandr Kerensky Kerensky perde rapidamente la fiducia della massa proletaria in quanto tenta di soffocare le azioni contadine e la propaganda bolscevica reintroduce la pena di morte per cercare di riportare all'obbedienza l'esercito ma soprattutto è deciso a proseguire la guerra contro i tedeschi a fianco delle potenze dell'intesa nonostante ciò le forze conservatrici vorrebbero azioni repressive ancora più incisive e sono pronte a sostenere l'ascesa al potere come dittatore militare del generale Kornilov che lo stesso Kerensky aveva nominato comandante in capo dell'esercito su pressioni delle altre potenze dell'intesa il 12 agosto del 1917 per volontà del governo si tiene un'assemblea denominata consiglio di stato in cui sono presenti i rappresentanti di tutti i partiti tranne quello bolscevico e un gran numero di proprietari terrieri industriali commercianti e banchieri per un totale di 2000 partecipanti nel suo intervento il generale Kornilov chiede apertamente poteri dittatoriali allo scopo di salvare la Russia dai bolscevichi accusando il governo di non fornire mezzi sufficienti all'esercito e di essere incapace di riportare la calma nel paese nel frattempo i bolscevichi ormai dati prespacciati dalle forze reazionari e tengono segretamente il loro sesto congresso a Pietrogrado e riescono a indire a Mosca uno sciopero che porta in piazza 400.000 persone a questo punto Kornilov tenta di rovesciare il governo il 19 agosto infatti ordina alle truppe in difesa della città di Riga di abbandonare la città nelle mani dell'esercito tedesco e di marciare in direzione di Pietrogrado Kerensky resosi conto delle intenzioni del generale lo destituisce ma Kornilov non accetta l'ordine e invia un corpo di cavalleria cosacca in direzione di Pietrogrado ricordiamo che i cosacchi sono un'antica comunità militare che vive in maggioranza nella steppa situata tra Ucraina e Russia il governo provvisorio non ha a sua disposizione truppe con cui poter respingere l'assalto e così sono i bolscevichi a organizzare la difesa creando il consiglio di guerra per la difesa di Pietrogrado in breve tempo 25.000 operai entrano a far parte della cosiddetta Guardia Rossa una forza militare organizzata a difesa di Pietrogrado voluta da Lev Trotsky Trotsky è un ex menshevico poi diventato bolscevico a partire dal luglio del 1917 presidente del soviet di Pietrogrado e commissario del popolo per gli affari esteri inoltre i lavoratori delle aziende produttrici di armi prolungano volontariamente l'orario a 16 ore e in due giorni costruiscono 200 cannoni le unità dell'esercito coinvolte nelle giornate di luglio che erano state disarmate tornano così a essere operative e a loro si uniscono alcune migliaia di marinai provenienti dalla base navale di Kronstadt tutta la rete ferroviaria viene poi sabotata dagli stessi ferrovieri che la rendono inutilizzabile emissari del consiglio di guerra prendono immediatamente contatto con alcune delle unità che stanno marciando su Pietrogrado e riescono a farle passare dalla loro parte ponendo di fatto fine al tentativo contro rivoluzionario Kornilov e altri ufficiali vengono arrestati e poi rilasciati per evitare un processo che avrebbe fatto venire alla luce i collegamenti di questi personaggi con il governo provvisorio Kerensky riesce a rimanere al governo ma oramai non ha più alcuna credibilità verso le classi popolari che sostengono con sempre maggior convinzione il partito bolshevico per cercare di evitare la presa di potere definitiva da parte dei bolshevichi il governo stabilisce che il 28 novembre si sarebbero tenute le elezioni per un'assemblea costituente fra la metà di settembre e la metà di ottobre del 1917 Lenin riesce a convincere anche le parti più scettiche del proprio partito della necessità di attuare il colpo di stato prima delle elezioni per la costituente o ancora meglio prima dell'inizio del secondo congresso dei soviet che avrebbe così potuto legittimare il nuovo ordine l'insurrezione inizia il 6 novembre e ricordiamo che passerà alla storia come rivoluzione di ottobre in quanto il 6 novembre del nostro calendario gregoriano corrisponde al 24 ottobre del calendario giuliano che come già accennato è in uso nell'impero russo in quegli anni prima di sera vengono occupate tutte le tipografie e la notte del giorno successivo vengono presi i punti nevralgici di Pietrogrado come le poste i telegrafi le stazioni ferroviarie le banche e i ministeri il governo provvisorio cessa di esistere senza alcuna resistenza Kerensky fugge verso il fronte a bordo di un'auto dell'ambasciata americana per cercare rinforzi mentre gli altri ministri si rinchiudono nel palazzo d'inverno che sarà espugnato poche ore dopo e i ministri arrestati la sera del 7 novembre il 25 ottobre del calendario Giuliano Lenin annuncia il successo della rivoluzione al secondo congresso dei soviet e in questa sede viene conferito agli stessi soviet l'incarico di governare la nazione dopo sanguinosi scontri anche Mosca cade nelle mani dei rivoluzionari il 15 novembre cioè il 2 novembre del calendario Giuliano i primi atti formali del governo dei soviet sono i seguenti il primo il decreto sulla terra che prevede l'immediata distribuzione senza indennizzo delle terre dei latifondisti ai contadini privi di terra il secondo il decreto che prevede l'apertura immediata di trattative di pace con tutte le nazioni belligeranti nella prima guerra mondiale ovviamente e un immediato armistizio di almeno tre mesi il terzo la sostituzione del vecchio sistema giudiziario con i tribunali del popolo elettivi il quarto la sostituzione della polizia con una milizia composta prevalentemente da operai il quinto viene sancita la totale separazione tra stato e chiesa il sesto viene introdotto il divorzio e il matrimonio civile con uguali diritti per entrambi i coniugi il settimo viene sancita la totale parità di diritti tra uomo e donna l'ottavo viene introdotto alla giornata lavorativa di otto ore il nono nell'esercito vengono cancellate le differenze di trattamento fra soldati e ufficiali il decimo vengono nazionalizzate tutte le banche private l'undicesimo il commercio estero diventa monopolio dello stato il dodicesimo la flotta mercantile e le ferrovie diventano statali il tredicesimo le fabbriche vengono date in gestione agli operai il quattordicesimo viene sospeso il rimborso dei prestiti ottenuti all'estero dal regime ezzarista e il quindicesimo tutti gli accordi internazionali inclusi quelli segreti vengono resi pubblici in particolare fa molto scalpore a livello internazionale la pubblicazione del patto di Londra l'accordo segreto del 26 aprile del 1915 tra il governo italiano e i rappresentanti della triplice intesa con cui l'Italia si sarebbe impegnata a scendere in guerra contro gli imperi centrali entro un mese dalla stipula del trattato in cambio di cospicui compensi territoriali il metodo della diplomazia segreta era fortemente osteggiato dal presidente americano Wilson che infatti terminata la guerra si oppone risolutamente alla completa realizzazione delle rivendicazioni territoriali italiane basate sul patto di Londra Kerensky dopo la sua precipitosa fuga dal settembre del 1917 assume il grado di generalissimo e ritira dal fronte circa 20.000 soldati cosacchi ordinandogli di marciare su Pietrogrado una parte di queste truppe in seguito all'intervento di emissari bolshevichi viene convinta a unirsi alla rivoluzione e il resto viene sconfitta dalla guardia rossa prima di giungere a Pietrogrado ricordiamo che nel 1922 con la fondazione dell'unione delle repubbliche socialiste sovietiche la guardia rossa diventa l'esercito del nuovo stato e prende il nome di armata rossa i bolshevichi oltre a dover difendere militarmente la loro rivoluzione devono anche fare i conti con il sistematico sabotaggio messo in atto da tutto l'apparato burocratico e ci vorranno mesi perché i commissari del popolo possano iniziare a gestire gli uffici dei ministeri o delle banche a partire dal 12 novembre del 1917 nel bel mezzo della rivoluzione si svolgono le elezioni per l'assemblea costituente già previste dal deposto governo Kerensky alle consultazioni si presentano quattro liste i bolshevichi i menshevichi il partito cadetto e i socialisti rivoluzionari dello stesso Kerensky le elezioni si svolgono a suffragio universale ma la partecipazione degli elettori è inferiore al 50% degli aventi diritto vincono i socialisti rivoluzionari con il 58% grazie al loro controllo dei soviet e dei contadini il partito bolshevico ottiene il 25% delle preferenze con picchi del 40% nelle grandi città e del 60% nel soviet di Pietrogrado il partito cadetto tiene il 14% dei voti e i menshevichi soltanto il 4% all'assemblea costituente i cui lavori iniziano il 5 gennaio del 1918 vengono eletti 715 deputati 370 dei quali socialisti rivoluzionari 175 bolshevichi 40 socialisti rivoluzionari di sinistra una corrente di sinistra fuoriuscita dai socialisti rivoluzionari 16 menshevichi e 17 cadetti i socialisti rivoluzionari di sinistra si uniscono subito ai bolshevichi scelta che consente l'unione tra il comitato esecutivo dei soviet contadini quindi socialista rivoluzionario di sinistra e il comitato esecutivo dei soviet degli operai e dei soldati che era invece bolshevico dando vita a quello che passerà alla storia come comitato esecutivo centrale pan russo nella prima seduta l'assemblea costituente viene proclamata autorità suprema di tutta la russia e non viene riconosciuto alcun potere ai soviet dei lavoratori quindi operai contadini e soldati i bolshevichi e i socialisti rivoluzionari di sinistra chiedono all'assemblea di ratificare tutti gli atti e i decreti precedentemente emessi dai commissari del popolo che erano bolshevichi che quelli che appunto abbiamo già menzionato quindi il decreto sulla terra la separazione tra stato e chiesa l'apertura immediata di trattative per una pace con i paesi belligeranti nella prima guerra mondiale eccetera i socialisti rivoluzionari e l'area di destra dell'assemblea costituita dal partito cadetto e da parte dei menshevichi rifiutano la richiesta e in segno di protesta bolshevichi e socialisti rivoluzionari di sinistra abbandonano l'aula soltanto due giorni dopo il 7 gennaio viene decretato lo scioglimento dell'assemblea costituente inizia così la guerra civile russa che vede fronteggiarsi principalmente i bolshevichi con la loro armata rossa detti i rossi e i bianchi con la loro armata bianca un esercito contro rivoluzionario costituito principalmente da nazionalisti e re azionari provenienti dall'esercito imperiale russo appoggiato dai rappresentanti dei democratici dei cadetti e dei socialisti riformisti sostenitori di Kerensky i bianchi sono inoltre sostenuti dalle potenze dell'intesa soprattutto Giappone Gran Bretagna Francia e Regno d'Italia che invieranno anche corpi di spedizione le forze contro rivoluzionari cominciano a raccogliersi nella regione del fiume Don e il 9 gennaio del 1918 viene annunciata ufficialmente la creazione della cosiddetta armata dei volontari di cui il generale Kornilov è comandante in capo nello stesso mese in collaborazione con le forze cosacche l'armata dei volontari conquista Rostov sul Don ma l'armata rossa contrattacca costringendola a ripiegare verso sud fino alle foci del Don dove il generale Anton Denikin succeduto a Kornilov fu ucciso in battaglia il 13 aprile cerca di ricostruire l'esercito altro problema per i bolshevichi è la spinta indipendentista di alcuni stati appartenenti all'ex impero russo già nei mesi successivi alla rivoluzione infatti molte province dell'ex impero russo tra cui ricordiamo Ucraina Finlandia Polonia ed Estonia approfittano della situazione caotica all'interno della nazione per dichiarare la propria indipendenza l'Ucraina in particolare rappresenta una grossa perdita territoriale e un inaspettato colpo politico per il governo bolshevico Lenin e l'allora commissario alle nazionalità Yosif Stalin decidono per l'invasione dell'autoproclamata Repubblica Ucraina sfruttando la presenza dell'armata rossa nella vicina regione del Don e la riconquistano il 3 marzo del 1918 presso la città di Brest un tempo conosciuta come Brest-Litovsk dopo un lungo dibattito all'interno del partito bolshevico che vede prevalere la linea di Lenin su quella di Trotsky la Russia firma la cessazione delle ostilità con gli imperi centrali accettando le dure condizioni del diktat tedesco che prevedono la perdita del controllo russo su Finlandia Ucraina Polonia Bielorussia e paesi baltici cioè Ucraina e Bielorussia diventano repubbliche fantoccio alla dipendenza economica e politica del secondo Reich il 14 marzo il governo bolshevico sposta la capitale da Pietrogrado a Mosca la cui posizione più centrale orientale più centro orientale ritenuta più sicura dopo la stipula della pace con le potenze centrali la scelta dei bolshevichi di introdurre misure ancora più autocratiche fa sì che anche i social rivoluzionari e i menschevichi si uniscano alla lotta armata contro il potere bolshevico che risponde dando vita al cosiddetto periodo del terrore rosso intensificando la repressione politica militarizzando la società è irrigidendo il controllo statale su produzione e commercio in primavera il governo è infatti costretto a requisire grandi quantità di grano per poter rifornire le città le cui scorte sono ormai esaurite nonostante le requisizioni colpiscano almeno in un primo momento principalmente i contadini più agiati i cosiddetti kulak queste scatenano vere e proprie rivolte talvolta dirette dagli stessi rivoluzionari socialisti si viene così a costituire quello stato socialista di stampo autoritario che Lenin ritiene necessario al fine di giungere al comunismo nelle regioni orientali i bolshevichi sono più deboli quindi la legione cecoslovacca che prima della rivoluzione faceva parte dell'esercito zarista ed è composta da oltre 50.000 soldati su ordine del governo bolshevico viene fatta muovere verso Vladivostok una città situata sul confine orientale della russia appena a nord della corea del nord a maggio però spinte da agenti delle potenze dell'intesa le truppe cecoslovacche si sollevano contro i bolshevichi sopraffacendoli e prendendo possesso di omsk e di altre città della siberia occidentale nel giugno nel giugno del 1918 si costituisce il governo provvisorio della siberia autonoma formato da menshevichi e democratici e a luglio viene proclamata la repubblica di siberia allo stesso tempo le forze giapponesi avanzano da est e truppe inglesi americane e italiane giungono a Vladivostok come reazione all'avanzata dei cecoslovacchi nelle regioni centro orientali il soviet degli Urali con la osta di Lenin ordina al commissario Jakov Iurovski di giustiziare lo zar Nicola II e tutti i membri della sua famiglia il 17 luglio del 1918 l'ordine viene eseguito e i corpi occultati nei boschi nel novembre del 1918 viene firmato l'armistizio di Compiegne che segna la resa della Germania e la fine dei combattimenti della prima guerra mondiale crollato l'impero tedesco la guardia rossa tenta di riconquistare la Bielorussia e i paesi baltici persi con la firma del trattato di Brest-Litovsk ma le forze indipendentiste e le divisioni irregolari tedesche ancora presenti sul territorio glielo impediscono nel frattempo la guerra civile russa si fa sempre più sanguinosa a sud l'esercito bianco forte di più di 100.000 uomini riprende l'offensiva antirivoluzionaria nel febbraio del 1919 mettendo sotto pressione le divisioni rosse stanziate tra il Don e il Caucaso zona che diventa il teatro più sanguinoso della guerra civile in questa fase anche in Ucraina a partire da febbraio-marzo si fa sempre più violento il conflitto tra i bianchi e i rossi e nel marzo del 1919 scoppia anche il conflitto polacco-sovietico sul fronte orientale verso la fine di aprile ha inizio un'offensiva dei rossi che anche a causa del mancato intervento delle forze dell'intesa difesa dei bianchi in poche settimane riconquistano i territori fino oltre la linea degli urali nel giugno del 1919 l'ufficio politico bolshevico creato a marzo e composto tra gli altri da Lenin Trotsky e Stalin decide per l'intervento della guardia rossa in Ucraina ma già ad agosto sempre del 1919 la capitale Kiev viene presa dall'esercito bianco forte di quasi 250.000 unità allo stesso tempo le forze bianche avanzano anche verso Pietrogrado mentre a est Vilnius e Minsk cadono nelle mani dei polacchi il periodo tra settembre e ottobre del 1919 segna un momento estremamente drammatico per i bolshevichi che causa una profonda crisi politica all'interno del partito con Stalin che addossa le colpe della sconfitta di giugno in Ucraina a Trotsky allo stesso tempo però l'emergenza induce i bolshevichi a massimizzare lo sfruttamento delle loro risorse e a ottimizzare l'organizzazione burocratico-militare Trotsky tramite coercizione riesce a inquadrare nella Guardia Rossa una massa di soldati che nell'autunno del 1919 arriva a contare 3 milioni di unità a ottobre l'offensiva avviata dai bolshevichi contro le armate bianche ha un grande successo e costringe le forze nemiche a ritirarsi scompostamente verso sud Stalin promuove questo successo come il frutto della sua spregiudicata condotta militare sul fronte nord-occidentale Trotsky si reca a Pietrogrado in quel momento in gravissimo pericolo per organizzarne personalmente la difesa la battaglia di Pietrogrado del 22 ottobre del 1919 vede prevalere la resistenza rossa a cui partecipano anche un gran numero di operai al fianco dei soldati della Guardia Rossa le truppe bianche sono così costrette a ritirarsi verso l'Estonia anche a nord il tentativo contro-rivoluzionario dei bianchi viene sventato e sul fronte orientale i bolshevichi procedono speditamente verso Omsk senza trovare pressoché alcuna opposizione in inverno la loro avanzata continua lungo le principali direzioni mettendo in fuga le truppe bianche ormai allo sbando a febbraio del 1920 i rossi completano anche la riconquista di tutto il territorio settentrionale e dei porti sul mare artico il problema maggiore per i bolshevichi rimane quindi il fronte polacco a ovest nonostante siano in atto timide trattative di pace nell'aprile del 1920 l'esercito polacco sferra una potente offensiva e conquista Kiev il 25 aprile i bolshevichi riescono a mobilitare centinaia di migliaia di uomini e la loro controffensiva iniziata il 26 maggio ha un successo travolgente in un mese e mezzo l'esercito polacco è costretto ad arretrare di ben 400 km cedendo un territorio di oltre 250.000 km2 ad agosto del 1920 le armate bolsheviche arrivano a 50 km da Versavia ma l'esercito polacco sostenuto dalla Francia reagisce con una nuova controffensiva le truppe sovietiche ormai esauste indietreggiano e a ottobre si stabiliscono su una linea 200 km a est della linea Karzon che nel 1945 diventerà il confine tra Russia e Polonia il trattato di pace ufficiale verrà siglato nel marzo del 1921 a Riga ricordiamo che la linea Karzon scritto C-U-R-Z-O-N è stata una linea di demarcazione proposta nel 1919 dal ministro degli esteri inglese George Nathaniel Karzon come possibile armistizio tra Polonia a ovest e la Repubblica Socialista Federativa Sovietica Russa a est durante la guerra polacco-sovietica del 1919-1920 il piano di Karzon non viene accettato da nessuna delle due parti poiché la situazione militare volgeva in proprio favore ma la linea Karzon viene comunque utilizzata da Stalin come argomento significativo nelle trattative con gli alleati dal 1942 al 1945 al fine di stabilire il confine polacco-sovietico Stalin sosteneva infatti che l'URSS non poteva avere meno territorio di quanto Lord Karzon non gliene avesse già riconosciuto nel 1919 terminato il conflitto con la Polonia già ai primi di settembre del 1920 alcune divisioni della Guardia Rossa vengono inviate in Ucraina per liquidare i bianchi che non reggono l'offensiva e a ottobre sono costretti a ripiegare nella penisola di Crimea il 9 novembre del 1920 i bolshevichi attaccano anche in Crimea e dopo un'ultima disperata resistenza il 16 novembre le truppe bianche superstiti fuggono a bordo di navi russe scortate da navi da guerra inglesi e francesi questi eventi segnano la fine dell'esperienza contro-rivoluzionaria bianca in Russia ormai conscio dell'avvicinarsi della vittoria finale il governo bolshevico cerca di riconquistare gli ultimi territori dell'ex impero russo ancora recuperabili ad esclusione quindi di Finlandia paesi baltici e Polonia ormai perduti già a ottobre del 1920 l'esercito giapponese aveva iniziato a ritirarsi dall'estremo oriente russo e ciò favorisce la ripresa da parte dei bolshevichi dei territori siberiani oltre il lago Baikal il caucaso rimane in quel periodo la regione più ostica da riconquistare per via sia dell'opposizione di etnie non russe principalmente azeri georgiani e armeni sia a causa della resistenza turca sia per via del territorio aspro e montuoso la guardia rossa riesce a occupare l'intero territorio caucasico e a sedare le resistenze armate solo dopo oltre un anno di duri combattimenti il 23 ottobre del 1921 viene firmato il trattato di Kars con la Turchia che segna la fine delle ostilità nell'agosto del 1920 nelle campagne della regione centrale di Tambov scoppia una vasta ribellione contro la dittatura bolshevica a causa dell'imposizione della leva obbligatoria e delle requisizioni coatte dei raccolti con i rivoltosi che riescono a organizzare un esercito di contadini e socialisti anti-bolshevichi formato da circa 40.000 unità i combattimenti sono estremamente violenti e i rossi riescono ad avere la meglio nel giugno del 1921 anche grazie all'uso di gas asfissianti e al ricorso a fucilazioni di massa nonostante ciò focolai di rivolta rimarranno attivi nella regione fino al tardo 1922 il primo marzo del 1921 i marinai della base navale di Kronstadt gli stessi che quattro anni prima avevano appoggiato i rivoluzionari bolshevichi si ribellano al potere costituito chiedendo autonomia e un socialismo più libertario il 7 marzo i bolshevichi attaccano l'isola fortezza di Kronstadt dove stanno serraiati più di 10.000 rivoltosi e dopo oltre 10 giorni di duri combattimenti 2.000 morti e altrettanti giustiziati i bolshevichi spengono la rivolta la repressione di ogni dissenso messa in atto dal regime bolshevico fattore fondamentale per il loro successo nella guerra civile si rivolge anche contro intere categorie sociali e in particolar modo contro i contadini per la maggior parte contrari al nascere di un nuovo stato ancora più accentrato e dispotico di quello precedente le campagne infatti che raccolgono in quegli anni la maggioranza della popolazione avevano salutato con grande favore il crollo dell'autocrazia zarista nella speranza che venisse finalmente messa in atto la redistribuzione delle terre tale speranza però viene frustrata da misure autoritarie che al di là di una parziale distribuzione delle terre ne socializzano il raccolto imponendo che una quota fissa del raccolto stesso spesso molto ampia venga data allo stato senza indennizzo negli anni 1921 1922 a causa di una grave siccità i raccolti sono molto scarsi e le requisizioni coatte peggiorano la situazione scatenando una carestia particolarmente grave nelle regioni del fiume Volga secondo alcuni storici è questa la più grave crisi alimentare in Europa sin dal medioevo durante la quale vengono documentati non pochi episodi di cannibalismo solo l'introduzione da parte di Lieni nel 1921 della cosiddetta NEP abbreviazione delle parole russe che significano nuova politica economica riesce in qualche modo a mitigare il disastro grazie a una serie di riforme economiche in parte in parte orientate al libero mercato la NEP rimarrà in vigore fino al 1929 il 30 dicembre del 1922 viene fondata l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche quindi U.R.S.S. o in forma abbreviata Unione Sovietica primo stato socialista della storia questo evento segna la vittoria finale del comunismo bolshevico nella guerra civile in Russia